Sviluppato da Question edito da THQ Nordic, South Park Snowday è il classico esempio di gioco pensato esclusivamente per i fan di una proprietà intellettuale, nel bene e nel male. Ogni istante di gioco è infatti denso di riferimenti alla serie animata e il titolo si presenta sul mercato dal 26 marzo 2024 col chiaro obiettivo di raggiungere le vette del passato videoludico del marchio. Ma ci sarà riuscito davvero? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Scorre già, ehm, seguirci, volevamo dire seguirci. L'avventura ci mette nei panni del New Kids, un piccolo abitante di South Park non presente nella serie animata che si è unito alla combriccola dei protagonisti per giocare. Le premesse sono semplici, una tempesta ha imbiancato la cittadina costringendo la scuola alla chiusura e garantendo quindi a tutti i bambini una giornata di divertimento tra i fortini di neve. La pace però dura ben poco e le spie di Cartman indicano che gli elfi capitanati da Kyle intendono attaccare Koopa Kip, ovvero il nostro fortino. Inizia così una vicenda in cinque atti che ci porterà a sconfiggere i nemici più formidabili di South Park e a smascherare anche una misteriosa forza dietro la tempesta di neve che sembra non finire più. Tuttavia il gioco si presenta purtroppo come un prodotto davvero povero di contenuti. Le armi a disposizione dei giocatori sono infatti solo sei, tre da corpo a corpo e tre dalla distanza, mentre gli incantesimi sono soltanto otto. È possibile inoltre levitare e avvelenare i nostri nemici con abilità a base di scorregge, mentre potremo contare su droni esplosivi, totem curativi e scudi a bolla. Purtroppo dopo appena 4 o 5 ore si finisce per aver provato tutti gli equipaggiamenti disponibili, ma è comunque possibile ritrovarsi per le mani qualche sorpresa grazie al sistema delle carte. Le carte normali sono infatti i potenziamenti alle armi o le abilità che consentono di infliggere più danni, riflettere proiettili con la bolla e mettere scariche elettriche o curare più in fretta. Le carte avversarie sono invece modificatori simili che influenzano le unità nemiche, mentre quelle bullshit sono i potenziamenti dagli usi limitati a disposizione sia di chi gioca sia della fazione avversa. Gli scontri tra Cartman, Kyle e Stan infatti sono regolati da una serie di paletti molto labili che si poggiano sul bullshit trial, ovvero un momento all'inizio di ogni livello in cui vengono presentate le carte scelte da una selezione casuale e quelle invece assegnate dal computer allo schieramento nemico. E tutto ciò fa in modo che i bonus e i malus di ogni livello siano molto chiari. Infatti così come noi potremo ad esempio diventare giganti, sparare laser dagli occhi o far cadere meteoriti, lo stesso potranno fare gli avversari controllati dall'intelligenza artificiale. Le carte bullshit dei nostri oppositori infatti potrebbero trasformare le nostre armi corpo a corpo in salsiccia da piscina, dotare le unità nemiche di spade laser o trasformarle in vampiri volanti. La valuta di gioco con cui si sbloccano i potenziamenti passivi dell'albero delle abilità è la Materia Oscura, ossia una risorsa che si ottiene giocando e aprendo alcuni forzieri un po' difficili da raggiungere sparsi per la mappa. Sia chiaro però nulla che non si sia già visto altrove. È possibile infatti ottenere più salute, più danno, più stamina e qualche altro leggero modificatore per migliorare le nostre performance nel tempo. E l'idea di base dovrebbe essere infatti quella di spingere i giocatori al progresso, facendogli rigiocare ancora e ancora la brevissima campagna della durata di appena 4 o 5 ore. Ogni livello inoltre è diviso in sezioni alla fine delle quali si riceve una nuova carta o altri potenziamenti, ma comunque il problema di fondo di tutta questa struttura è che gli stage sono davvero simili tra loro. Ogni sezione è infatti un paesaggio innevato con dislivelli semplici, qualche punto di restringimento e dall'ambientazione forestale urbana, eccezione fatta per le arene delle battaglie contro i boss. Fortunatamente però le cose cambiano un po' affrontando l'esperienza in cooperativa e con il divertimento che raggiunge il suo massimo potenziale quando tra i giocatori umani ci sono dei fan di South Park capaci di cogliere le citazioni e l'umorismo dissacrante della serie. Nel pacchetto è poi presente anche una modalità urda con quattro scenari diversi, ma che comunque introduce pochissimo di nuovo rispetto al resto dell'offerta. Insomma, per farla breve i combattimenti sono semplici e prevedibili e l'ambientazione sembra sempre tutta uguale. Senza contare poi che il gioco è in 3D, caratteristica questa che mette molta distanza tra l'estetica classica di South Park e questa trasposizione videoludica. South Park Snow Day vale l'acquisto solo se fate parte di un gruppo di tre o quattro amici che non solo sono appassionati della serie tv, ma che hanno anche qualche serata da dedicare al gioco come fosse una sessione di Dungeons & Dragons. In tutti gli altri casi, quindi, non ci sentiamo di consigliarvi questa esperienza, perché ha pochissimo da offrire a livello di gameplay, perché presenta una storia non proprio avvincente e che dopo poche ore di gioco diventa decisamente ripetitiva, vista la poca varietà nel level design, nelle armi e nei poteri a disposizione. I giorni di gloria del mitico bastone della verità sono lontani, insomma, perché Snow Day purtroppo si dimostra un'opera nulla all'altezza di ciò che l'ha preceduta, e che fa sorridere in alcuni momenti, certo, ma che non riesce comunque a coinvolgere ed appassionare. Voi ad ogni modo cosa ne pensate? Vi aspettavate di più da questa esperienza a marchio South Park o avevate già sentito puzza di bruciato, per non dire qualcos'altro? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre al passo con le novità relative alle trasposizioni videoludiche della serie creata da Matt Stone e Trey Parker. Qui accanto nel frattempo, come di consueto, trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!